Ciao io mi chiamo Ewite e sono il protagonista del primo racconto delle fiabe di Alessandra Mistretta questo che ho, tra le mani e un flauto magico ha un grande potere basta suonare alcune melodie e può fare magie. Dicono che solo una persona pura di cuore può utilizzarlo, fu creato cento anni prima della mia storia dagli scoiattoli della città di Shurus, se vuoi saperne di più, leggi il racconto Ewite e Aranel e la maledizione degli Elfi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.